La regata oceanica 2022-2023 sulla Terra Piatta. Un caro saluto a tutte e tutti. Oggi vediamo insieme come funziona la regata oceanica 2022-2023 sul nostro meraviglioso Regno Piano, che oltre ad ospitarci contiene tutta l'acqua del mondo. Quello che segue è la traduzione e l'adattamento di uno dei tanti video dell'amico Eddie di Flat Earth, Benjo, USA, Japan e Brazil. Andiamo a vedere la regata oceanica 2022-2023. Nella mappa vediamo le tappe sulla Terra Piana. Questa che vedete è la nuova mappa restaurata da Dimitri. Andremo a vedere alcune tappe e andremo ad esaminarle. Il primo tratto va da Alicante a Città del Capo e poi da Città del Capo fanno tutto il giro attorno fino a Itagi in Brasile. Questo tratto è quello su cui andremo a concentrarci. Tutte le altre tappe non sono veramente così importanti. Ho già fatto alcune ricerche su questo argomento e oggi desidero presentarvi ciò che penso su questa situazione. La velocità di queste imbarcazioni si basa sulle precedenti velocità della regata del 2012 da Alicante a Città del Capo e poi con quella velocità andremo a calcolare la traiettoria e la velocità da Città del Capo a Itagi, Brasile. Vediamo quello che ho trovato. Questi sono i percorsi sulla mappa mercatore. Come vi dicevo, ci concentriamo sulla terza tappa da Città del Capo, Sudafrica, a Itagi in Brasile. Il percorso totale dovrebbe essere di 32.000 miglia nautiche pari a 60.000 km. Nella terza tappa tra Città del Capo e Itagi, Brasile, ci sono 12.750 miglia marittime pari a 23.613 km. Si tratta di una distanza che, secondo gli organizzatori, secondo il modello del globo, tra Città del Capo e Itagi, ripeto, secondo gli organizzatori, ci vorranno 34 giorni per concludere questa terza tappa. Come ho detto all'inizio, calcolerò la velocità in base alla tappa numero 1 fatta nel 2012 tra Alicante e Città del Capo dove sono stati in grado di navigare le 548 miglia nautiche pari a 1.014 km in 24 ore con una media di 22,8 nodi all'ora pari a oltre 42 km orari. Per essere precisi, ricordiamo che 548 miglia corrispondono a 1.014 km nella tappa di 24 ore. Nella tappa 3 12.750 miglia nautiche che convertite si trasformano in 23.613 km ad una velocità di 22,8 nodi orari pari a 42,225 km orari dovrebbero coprire questa distanza in 23 giorni, ma loro prevedono 34 giorni. Perché? 22,8 nodi orari pari a 42,225 km orari non è la velocità più alta. La velocità di 28 nodi orari pari a 51,85 km orari è già stata raggiunta nelle gare precedenti. Queste che vedete sono le correnti oceaniche secondo la mappa della Terra Piana e anche secondo il globo. Se calcoliamo la velocità di queste correnti oceaniche non è facile. La corrente principale negli oceani del sud è la corrente circumpolare antartica ACC. In italiano non ti danno i numeri ma ti dicono che sta accelerando a causa del cambiamento climatico. Comunque è la principale corrente del mondo e viaggia ad un metro al secondo. Come si calcola la velocità delle correnti? In questa pagina web del Servizio Marittimo Nazionale si legge che per misurare le correnti sono necessari tre strumenti di base un osservatore un oggetto galleggiante o boa e un dispositivo di cronometraggio. L'osservatore si trova su una imbarcazione lancia la boa in acqua e poi misura il tempo che impiega quell'oggetto per spostarsi lungo il lato dell'imbarcazione. Man mano che la tecnologia è migliorata gli oceanografi hanno iniziato ad utilizzare misuratori di correnti meccanici. Una imbarcazione dispiegherebbe un misuratore e di solito una sorta di rotore girerebbe e misurerebbe le correnti. Questo ancora oggi è il processo di base. Tuttavia esistono strumenti più accurati e sofisticati. Questa corrente intorno all'Antartide è la più grande e la più veloce come spiega questo professore. ho menzionato più volte che l'oceano del sud è speciale perché non ha confini zonali è un canale integrale poiché l'oceano antartico è un canale dove i venti possono continuare a zangolarlo e quindi le caratteristiche principali sono la corrente circumpolare antartica una delle correnti più famose è anche conosciuta come la corrente del vento dell'ovest ed è l'unica corrente che gira completamente intorno alla Terra a causa della speciale configurazione del canale di questo oceano e questo ovviamente sposta più acqua in termini di metri cubi di trasporto rispetto a qualsiasi altra corrente del mondo. Quindi osservate attentamente questa immagine qui mostra le molteplici convergenze e divergenze pertanto abbiamo la corrente circumpolare antartica oltre alla deriva del vento dell'ovest infatti in questo sito web del National Geographic chiamano le correnti oceaniche nastro trasportatore oceanico in italiano circolazione termoalina sono simili alle correnti a getto quando si vola all'interno della corrente a getto o si naviga lungo questa specie di nastro trasportatore oceanico non si ha alcun attrito perché ci si sta muovendo in avanti con le correnti e non contro quindi per spiegare meglio immaginiamo una persona in piedi su un tappeto mobile che cammina su uno di questi si trovano negli aeroporti di tutto il mondo se osserviamo questa persona in piedi sul tappeto andiamo a vedere in 28 secondi quante persone passeranno davanti allo schermo se le persone rimangono ferme nell'esempio numero 2 vediamo la persona che cammina e possiamo vedere che si muove molto più velocemente da sinistra a destra e in questo esempio si vede che la persona cammina nella direzione opposta come potete vedere rimane sempre nello stesso punto nonostante si sforzi di andare controcorrente è per questo motivo che hanno organizzato questa gara andando da ovest verso est perché seguiranno il flusso seguiranno le correnti oceaniche in special modo questa corrente antartica che è una delle correnti più grandi e più veloci e così navigheranno da ovest verso est un utente ha pubblicato un commento su un precedente video ha scritto questa è la loro versione della gara visualizzata su una proiezione mercatore dall'inizio della tappa 2 all'inizio della tappa 4 ci sono quasi due mesi presumono che dovrebbero arrivare in Brasile il primo aprile dopo essere partiti da città del capo il 26 27 febbraio ma impiegheranno 4 settimane per iniziare la tappa 4 mentre in molte altre tappe impiegano solo una settimana fra una e l'altra non credo che completeranno la tappa dal Sudafrica al Brasile in 34 giorni e poi facciano una pausa di 4 settimane prima di partire per Newport abbiamo già visto che queste correnti oceaniche sono chiamate nastro trasportatore oceani quel che significa che si muovono solo in una direzione e chiunque vi salga beneficia del movimento dei nastri trasportatori aumentando così la velocità della corrente e addizionarla a quella dell'imbarcazione passeranno 60 giorni tra l'inizio della tappa 3 e l'inizio della tappa 4 anche se affermano che la regata dal Sudafrica al Brasile richiederà solo 34 giorni immaginiamo che stiano facendo 28 nodi all'ora il che significa 32 miglia pari a 51 km orari e se moltiplichiamo queste 32 miglia all'ora per 24 ore coprirebbero oltre 773 miglia al giorno pari a 1179 km e se moltipliciamo 773 miglia al giorno per 34 giorni equivalgono a 26.282 miglia pari a 40.688 km questo calcolando che loro sono in grado di raggiungere la velocità di 28 nodi pari a 51,856 km orari ma non sappiamo quanto sono veloci quelle correnti attorno al cerchio antartico allora vediamo di calcolare quando raggiungono la velocità di 35 nodi 40,27 miglia pari a 64,82 km all'ora 40.000 all'ora per 24 ore è uguale 966 miglia pari a 1554 km al giorno 966 miglia al giorno per 34 giorni fa 32.860 miglia pari a 52.883 km ricordate che non c'è attrito perché stanno muovendosi con le correnti non controcorrente non conoscendo esattamente la velocità che possono raggiungere le correnti del sud è difficile sapere anche che velocità raggiungono queste imbarcazioni seguendo le correnti è molto simile a quello che succede con le correnti a getto attorno al bordo della terra piana questi venti possono arrivare a velocità fino a 300 miglia all'ora pari a 482 km all'ora e ricordate che non c'è mai attrito perché non stanno volando o in questo caso navigando contro le correnti questo è il motivo per cui hanno scelto di andare da ovest verso est si muovono insieme alle correnti aumentando così la velocità dell'imbarcazione una cosa che sappiamo per certo se la terra fosse una palla non impiegherebbero 34 giorni per completare questa tappa al massimo impiegherebbero 23 giorni ma invece impiegano 60 giorni tra l'inizio della tappa 3 dal Sudafrica al Brasile e l'inizio della tappa 4 dal Brasile a Newport servirebbero 34 o 37 giorni o 40 giorni non lo sappiamo a questo punto l'unica cosa che posso dirvi è che se vivessimo veramente su una palla non ci vorrebbero 34 giorni per andare dal Sudafrica al Brasile al massimo impiegherebbero quanto 23 giorni per oggi è tutto gente grazie mille ci vediamo alla prossima un saluto per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu su questo canale youtube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche le playlist le trovate anche su indice alfabetico contrassegnate da questo indicatore sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero su questo canale come sul secondo mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore ma non impongo nulla ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità oppure di lasciare il canale continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento di indottrinamento